Qui alla Torre dei Lamberti abbiamo organizzato un'esposizione e anche una degustazione dei vini delle Marche a 84 metri, quindi in un punto panoramico della città di Verona, una delle esperienze che si possono fare con il tour che è stato organizzato a fuori del Viniteri. Quindi per le Marche è una grande presenza, abbiamo al salone 107 imprese marchigiane, qui domani noi presentiamo la nostra strategia sull'enoturismo con i nostri milioni di imprenditori e tutti quelli che hanno creduto nelle Marche e vorremmo farlo diventare il vino un vero driver per far conoscere il nostro straordinario territorio.